3 3 4 5 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 17 18 18 19 19 19 16 19 20 20 20 20 21 21 22 22 ma questa è giusto, dovresti stare vicino a me per averci accettato la palla a questo punto no, non ti dite caschi con il florento, mi chiesci a rinascare verso il palo no, non caschi con il florento, quindi non stai mirando no, non ti dite, bravissima a tu faccina, faccina 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 bravissima andiamo, apri bravo 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 la prima apri svaro svaro si apri Grazie. Bravissimo Dario. Tuoti la palla... Vado di buttare indietro le braccia e la schierta. E gli merci? Passa, bassa. Ottimo Dario. Grazie. 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 Prima le gambe, Nicole. Ricaricarle prima, non mentre la palla vicino alle mani. Grande battuta. Cambio battitore. Parte rock. Grazie. No, non mettiti. Finito. Bar. Viada. Sprop,aci, non metto... ... Core. se vuoi? se vuoi? brava Martina, così ti ha spiegato l'attenzione servono le gambe Giorgio, fa schifo perché non usi le gambe, non perché fallo bravissimo Dario bellissimo, a parte la giunta in qua grazie 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 La vera domanda è che cazzo gli fa a cuochi dietro di te che stai ricevendo a cuochi, dove cazzo gli mette questa cazzo di recensione qui? Devo rientrare la sua testa e scoprire scientificamente come funziona questa cosa. Ma se è sulla linea, tu stai due volte, avanti o dietro, sta, forse è una cosa, cazzo è una linea. Riccardo, è colpa tua, sei una stronza, la giungo troppo bene. Vicina? La vostra di linea, com'è che si sta qua? Ma in dietro, ho fatto in dietro, visto? Sì, è vero che abbiamo visto tutti. Era una risorsa. Ma sono più grassi. No, ecco, ecco. Perché prima ce ne le aspettate. Ma se è sulla linea, non è che ne le aspettate la inizia. Il genere il signore, ora non è tutto il fatto. Ma non lo so, è questo. Ma non lo so, è un giocatore? Non, non lo so, è il gioco, perché si è un gioco. No, non lo so. No, non lo so. Apri. La linea, Because. Non lo so. No, non lo so. Grazie. Out. Apri. Out. Brava, Erika. Posso andare fuori o non posso andare fuori? Eh, allora non è raro. Ci batte di Giorgio che vuoi vedere chi corre fuori dal campo. Dario controlla il vostro potere fisico e c'è Fresia. Poi si entra la competizione. Apri. Ora si lascia vedere la giustizia. E' vero. Ora si lascia vedere la giustizia. Ora si lascia vedere la giustizia. La stai lasciando e stai chiamando. Cia. 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 Cambio battitore. Cambio battitore. Pris e grazie che nel premio sociale ci siano ammalizzatibiranti per te questo è un micfica. De solito metti te con la camicia tipo. sei oltre oltre l'orridio cioè tu sei uno dei progetti di vita lì Mario Mario Giorgio è là lo ripoglio vedendo il segno di oggi è perfetto c'è chi deve essere un po' meno i gambi Ilaria spingi la pala passa Ilaria e l'acqua un po' brava Ilaria per quasi fare i bei colpi e niente la spingi di scala quando andare potremmo vedere il braccio dopo e ricicare le gambe bravo Martino colpisce la mano aperta secca verso l'alto senza abbassare il braccio bravo Pucchiota è talmente bella che Ilaria non sapeva cosa fare non ne arrivano mai questo palle bravo D'Ariezzo è benissimo il giorno anche il posto che rende lì da terra guarda il posto spingi la pala spingi la Ilaria c'erano molti pochi massimo bassa la tipica ecco l'alto ok non c'erano l'alto non c'erano mai se non c'erano mai ma il ritardo e il ritardo fa qualche punto è solo 3 Pianino e non abbassare la schiena. 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 Ok stop.